Maurizio Acerbo, anche Rifondazione Comunista, parteciperà il 23 maggio alla manifestazione di Lanciano? Certo, noi partecipiamo e ovviamente con i nostri attivisti e militanti partecipiamo fin dall'inizio all'organizzazione della manifestazione perché noi in primo luogo siamo un partito di movimento e d'altronde siamo uno dei pochi partiti che può occuparsi di questa materia a testa alta perché non siamo come quelle lingue biforcute che in Abruzzo dal PD a Forza Italia fanno i no Umbrida e poi vanno in Parlamento e votano come è accaduto per sbloccare Orbrina perché Umbrida era un progetto che era morto e che è stato dissepolto grazie al governo Monti e al voto di tutti i miei parlamentari abruzzesi. Crediamo che la manifestazione di sabato sia fondamentale perché anche se la battaglia è molto difficile ne va del futuro della costa nostra, va difesa a tutti i costi e una grande partecipazione popolare costringerà la politica anche a livello nazionale a fare i conti con questa situazione. Corrado Di Sante, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, vogliamo spiegare il no del vostro partito a Umbrina. È un no contro la deriva petrolifera del nostro territorio? Tutto appannaggio di grandi multinazionali straniere che vengono qui a fare i loro sporchi affari anche perché l'Italia è uno di quei paesi che ha le royalties più basse d'Italia quindi anche in una logica sviluppista il nostro territorio non torna davvero nulla. È semplicemente una rapina, un furto delle nostre risorse e mettendo a rischio quello che è il nostro bene comune, ovvero la costa. Purtroppo la costa è minacciata sia dal petrolio ma anche dalla cementificazione selvaggia e quindi noi siamo per dire no a Umbrina, per dire no alla cementificazione della costa e per la tutela dei beni comuni del paesaggio.